Voglio anche ribadire quello che abbiamo detto già negli altri giorni, il Dipartimento della Protezione Civile e il Commissario non requisiscono materiali che sono destinati alle regioni, alle strutture ospedaliere, sarebbe una lotta tra alleati e quindi questo non è assolutamente vero, quindi non corrisponde al vero di quelle notizie che si sono diffuse anche a livello di informazione sul web. Voglio smentire seccamente questa notizia che gira che il Dipartimento si starebbe preparando, poi non so perché il Dipartimento, per dichiarare condizioni di biocontenimento su tutto il Paese a partire da metà aprile. Sono delle fake news che vanno, devono essere punite e io mi auguro che possano essere individuati coloro i quali mettono in rete queste notizie che sono destituite di ogni fondamento e sono anche molto allarmistiche.